Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta tonno pomodorini e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono spaghetti, olio evo, aglio, pomodorini tagliati a metà, piselli surgelati, acqua, vino bianco, sale, pepe, basilico, prezzemolo e tonno sott'olio sgocciolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'agno. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. aggiungere i piselli e togliere l'aglio. Li facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi anti-orario, velocità soft aggiungere il vino bianco l'acqua il pepe il sale e continuiamo la cottura per 13 minuti 100 gradi anti-orario, velocità soft senza misurino aggiungere i pomodorini e il basilico ed azioniamo il bimbi per 5 minuti 100 gradi anti-orario, velocità soft aggiungere il tonno aggiungere il tonno il prezzemolo ed azioniamo il bimbi per 5 minuti 100 gradi anti-orario, velocità soft nel frattempo cuocere la pasta il sugo è pronto trasferire in una ciotola capiente condire la pasta e servire pasta, tonno, pomodorini e piselli grazie e alla prossima ricetta grazie grazie grazie